Notizie buone per l'avvertenza di ex cose di lana? Sì, assolutamente. È stato approvato dal giudice, dal tribunale, il dispositivo che autorizza i curatori ad affittare il ramo d'azienda al maglificio Brizzi & Co. SRL di Sansepolcro. Questa nuova società costituita dall'imprenditore Marcello Brizzi e dalla sua famiglia al quale va il ringraziamento di tutta la comunità per l'impegno, per questo nuovo progetto di sviluppo che non disperderà quella che è la storia della produzione del maglificio, 70 anni di storia di Sansepolcro, del maglificio cose di lana che purtroppo ha portato alla chiusura. Dunque, grande soddisfazione, veramente un grazie. C'è un impegno e saranno riassorbiti nel tempo una clentina di dipendenti che vengono dalla produzione, dal settore produzione dell'azienda e continua la tradizione della maglia. Dunque, è un affitto del ramo d'azienda con una successiva offerta di acquisto. Dunque, auguriamo veramente degli sviluppi positivi a Marcello Brizzi, ad Alessandra Innocenti e veramente un grande in bocca al lupo da parte di tutta la comunità.